Luca, le sai per chi? Eh appunto! Sai che che è quello? Io spero che sta andando, io ho schiacciato Starte, Yuri. Sì, se c'è lo schermo acceso va. È acceso, è acceso e ti sto riprendendo. Non farti prendere la corrente Michael, se no fai il punto di prima, stai nell'acqua ferma anche tu lì. Perché fai lo scherzo di prima mi fai. Un po' su Michael, pesante. Un po' su Michael. Vuole stare lì, c'è qualcosa? C'è un albero? Io lascio da sotto arrivo, che pizzo io. Occhia che ti prende la corrente Michael, stai appena più sotto della corrente. Metti il culo là, metti il culo là. Anticipa sempre le manovra del pesce. Ragione a quello che sta passando il pesce. Ok, marzo avanti. Certo già. Indietro, 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 dai che non partiamo via da qua. Forse. Stavamo in deriva con noi, forse. Rallenta, metti la marzo avanti. Se vuoi fare quel combattimento, sotto arriva sto pesce. Comunque ho visto la pancia. Le pesce? Si. Le mia tanzola, guarda. Quando ho fatto il giro ho visto la pancia. Ma sei sicuri che lui pensa di essere allamato? Hai dato tre tironi e sembrava attaccato il coso. Figa. Non so mai con la marzo del cassè. Adesso il cassè di Mondia adesso. Figa saltire. Ah, vuoi stare che? Occhio che ti prende la corrente. Maicon, non andare in corrente. Maicon, non andare in corrente con la barca che hai fatto il numero di prima di qua di sassi. Guarda. E guarda. Questo è il lavoro di sollevarlo finché... Un po' indietro, maicon, indietro, indietro. Tieni l'acqua, ferma qui con la barca. Dai che forse va Ferma, ferma, ferma Ma che ci fa sceglieremo niente il pesce Ferma, ferma, va Dai che forse Forse viene con noi Figa Vai indietro, vai indietro, portiamolo via Allontanalo, portalo in centro al fiume Portalo in centro al fiume questo pesce Piano, piano, ma non una truccia Tieni sempre il filo in alto, non superarlo Come è Yuri? Figa, ridimi guardi Allontanalo 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 Come la mia? Come la mia. Voglio farvi esgasare un tomat, come la mia, come la mia. Sì, vissi, tenere così è perfetto, se me la tiene così è perfetto. Top! Non è che sgasa, cazzo. Ciao, Yuri. Ciao. Stai cominciando a sgasare. In su, Michael, in su, in su, in su. Yuri, ci hai dato tre tiri e sembrava che avessi attaccato al fondo. Non credo che avessi fatto che si taglia per un po'. Ammi, è ancora stanco, eh? Vabbè. Appunto, so, con la ghenia. E' una cosa facile? Ma cosa fatti? sollevamelo la mia è 2 kg togli la macchina se non ce la faccio con il retro arriva forse dai Michael che ce la fai non mollarlo non mollarlo Michael non mollarlo che è enorme tiralo su dritto giralo così non ce la farà a me vai che è enorme vai che è un mostro un mostro marino scappa quanto è ma quanto è grosso è un mostro è esagerato quel pesce qua io non ve li ricordavo così grossi 120 kg di pesce che è vecchio big monster over 260 over 2,60m my new personal best 2,65m catfish over 120 kg in river po italy incredibile fight wow con la via 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 una via incredibile ma vengo genitor rilassi capire all'epoca capire guardate come ci mette a andare via, guardate yeah yeah un peso del record monster fish yeah yeah yeah